E' di due morti, tra cui un poliziotto e il bilancio degli scontri avvenuti nel villaggio beduino di Um el-Hayran. Tutto è accaduto negli istanti in cui i reparti della polizia israeliana sono giunti in loco al fine di salvaguardare l'opera di demolizione di 14 case illegali. Secondo le forze dell'ordine, gli incidenti sarebbero iniziati quando un presunto terrorista islamico alla guida di un veicolo ha attaccato gli agenti che lo hanno ucciso. Dopo aver sgomberato il villaggio definito illegale, le autorità avrebbero costruito nelle stesse terre un villaggio ebraico, approntando però estesi piani di sviluppo in altre zone per i beduini del Negev.